Ora invece ci occupiamo di un incendio che ha interessato la parte est della città dell'Aquila nella zona di Colle Sapone. Le fiamme, ma anche tanto fumo, vedete le immagini intorno alle 16.30 hanno aggredito un'area di campi incolti lungo via Vasche del Vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale della protezione civile regionale con sei squadre operanti a terra e due elicotteri. Le fiamme sono arrivate vicino anche ad alcune abitazioni, alcune delle quali sono state evacuate in via precauzionale. Il lavoro dei soccorritori è stato molto intenso e teso a circoscrivere il rogo. Sul posto anche i forestali dei carabinieri di Baresciano per far luce sulle origini di queste fiamme.